a mio avviso l'innovazione nel campo della salute dovrebbe passare dalla riduzione dei costi degli ausili che consentono l'autonomia alle persone disabili e da una facile reperibilità agli stessi dalla diffusione dell'informazione e sulla possibilità di ridurre la disabilità utilizzando semplici adattamenti o costruendo ausili sulla base delle proprie esigenze personali